Vincenzo buongiorno come si cambiano le marce in su o in giù? no no in giù 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 e via guardate lì quante marce hanno? una freccia scendo la prima no è quella di prima no è quella di prima e noi faremo la partenza in scompare no che cazzo fai via 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 no ooooooooh c'è un pesante poccate questa è ma anche un buon ultimo è classico ma non ho capito lo guarda anche va vado a puttarlo Fanra ralletta non freni, devi far retro marzano Ma dove cazzo vai? Ma lascia la spazza da dentro, guarda! Eh, grazie! Pia di Santini sta cosa! Beh, succederà un motivo, no? Comunque do io! Eh, non so! Fighi! Sei in folle! Sì, guarda la parte! Tu guarda dietro? Sì, sì! Sto prendendo l'accento stabile! Esatto! Hai spilanciato da questa parte qui? Eh, certo! Vento l'accento di me! Penso che scenderò! Stai correndo troppo? No! No! Venti la seconda! Senti! Tu fai tanto il figo con il kite sport estremo, con la storia lì! Questo estremo! No, che sei in folle, ecco vai! Ma quella figa, sapi? Te la compro, no? Ma è bellissimo! Con la storia, oi! Icchieti! Arbati! Oh, eh! E ovvero, eh! Vieni la esperanza! Grazie.